Iniziative che nella organizzazione di queste celebrazioni per il 150esimo c'era venuto. Questo perché è un luogo fortemente caro agli spezzini e il cavallo rampante di Garibaldi, unico nell'iconografia del grande generale, è anche molto evocativo per una città che si propone di guardare al futuro in qualche modo ricostruendo anche il proprio passato. La visita al cantiere è un modo per coinvolgere le scolaresche e la città in un progetto che non è soltanto iconografico ma che vuole avere anche un contenuto nella ricerca, nell'approfondimento, nel ritrovare e nell'approfondire questi valori dell'unità nazionale e del ruolo che la Spezia ha avuto in questa costruzione.